Certo che per fare politica onestamente a Bruxelles non devi essere intonso, no, non basta. Devi essere un incrocio genetico tra Gandhi, Madre Teresa e Padre Pio. Cioè, se li fondi insieme, devi essere Gian Terepio. Cioè, li vedi? Eccoli qua. Perché altrimenti come fai, ragazzi, con 11.800 lobbisti che come serpenti ogni giorno ti tentano con 11.800 mele diverse? Tra l'altro sarà un caso, ma la Caili, la Caili, si chiama anche Eva, eh? Si chiama Eva. Tu mi direi, vabbè, a volte son mele, a volte, come nel caso della Caili, son trolle pieni di grana, a volte sono sacchi pieni di banconote, e che diciamo che di mele se ne vedono poche. Cioè, come dire, un milione e mezzo di euro cash? Ecco la foto delle mazzette del Qatargate. Certo che quando un lobbista con le mazzette incontra un italiano con le tasche aperte, l'italiano finisce su Repubblica. Antonio Panzeri dalle barricate sindacali alla corruzione del Qatar. Eccolo lì. L'ex parlamentare europeo Antonio Panzeri. Pare che lui fosse il cervello della banda, no? Il deus es machina. Sempre che almeno la macchina fosse sua, perché non gli abbiano regalato anche quella. E poi intorno a lui c'era tutta una rete di assistenti parlamentari che brigavano per far sì che in Europa si parlasse bene del Qatar. Rigorosamente italiani. Sottolineo italiani. E purtroppo non lo sottolineo solo io. I magistrati belgi ormai parlano di un'Italian connection. Ormai a Bruxelles siamo come una malattia. Pare che stiano pensando di introdurre dei tamponi rapidi all'ingresso del Parlamento per vedere se sei italiano. Se sei positivo ti isolano prima di contagiare tutti. Eppure guardatelo lì Panzeri ragazzi, guardatelo qua. Our rights are not negotiables. I nostri diritti non sono negoziabili. Poi girava il cartello e dietro c'era il prezzo, no? Perché se guardi il suo curriculum... Se guardi il suo curriculum, lui è un fantastico distillato di CGL, PD e articolo 1. E tu pensi, metti insieme questi tre ingredienti e ti esce un politico, come direbbe Calenda, sario. Politico sario in maniera sé. Tu dici, ti esce Berlinguer. E invece no, è uscito Dillinger. Hai capito? Vabbè. Mazzette dal Qatar, vacanza da 100.000 euro per Panzeri. Minchia. Ma che cazzo di vacanza fai con 100.000 euro? Con 100.000 euro non vai in un hotel nell'attollo di Ari. E no, ti prendi direttamente Ari, te lo compri. Io però, ragazzi, a me fa tristezza perché tutte le persone coinvolte vengono dalla sinistra. Se penso che il povero Bersani aveva anche sostenuto Panzeri in campagna elettorale, me lo fate vedere, guardalo lì. Per un'Italia più forte, no? E poi sotto, da Somoro a Panzeri alla sinistra, che fa i conti con la questione morale. Anni e anni a parlare di mucca in corridoio, Bersani e poi a ciavola porcilaia in sala da pranzo. Grazie. 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 Grazie.